Se è al 700 punti mo, chissà è CiccioGamer Eravamo al 700? CiccioGamer non ne fa 700 Eravamo al 700 l'altra volta che ho giocato un giorno Eh sono al 1.400 e sono al 700 Ah nel senso ogni volta che... Ah pensavo che faccio i 700 punti a partita Ma va al giorno Eh io ne faccio 1.000 al giorno Scendiamo sempre qua Sì Qua adesso è il devasto no? C'è gente che scende qua mi sa Sì Voi andate sul tetto perché sono sceso basso Oh c'è uno davanti a me Eh bastardo eh bravo Ah cagava Uh arma oro Ho fatto anche l'altro Mi sto facendo uno scudo io Usciamo? È rimasto da solo Vabbè questo è da solo Vabbè senza armi cosa faccio? Vabbè vado a aiutare Qua c'è un pompa verde raga perché lo vuole Vado con Andrea a aiutarlo prima che muore Non penso di morire ma Mai dire mai Da dove cazzo sarà uscito? Ah è qua Sicuro non è di quel team là No no è di quel team là E come no? Ah Le scar Non ce l'ho io Le ho fatto 70 punti di vita Eh vabbè tanto l'avevo preso un paio di volte con la mitragliata in testa Allora Allora Ma la venti di vita la ho preso una volta Una terra Ma la cosa divertente è che questo gioco qua ti dà la kill anche se ne a terra uno con venti di vita Invece tipo su un code no? Su code chi ha fatto più danni alla persona piglia la kill Eh? Esatto No nel team ovviamente Cioè se poi lo pizzo in alto no Perché? Se io ce l'ho a dirgli Non puoi costruire stintuomo E lo gioco colpisce E lo gioco colpisce non è kill Allora Ecco me le A meno che non gli fanno ci piegare in testa tipo Non penso neanche così Che vale ma se non sempre fuori safe Ma perché? Allora come stai? Stai sto sovendo qua sulle case Nalla nero C'è un delirio Almaracana Ma quello è un Ollei un medikit Oh le case vanno ci sono Siamo sempre Siamo sempre Siamo sempre Andiamo andiamo Poi puoi la boccia la sopra che la prende Rai io c'ho un medikit Vado via Vado via Vado via Vado via Vado via Vado con frappanotte io eh Sto arrivando Allora sono le due botte Vado via Raga ma fagliate dritti in safe e basta Spetelo Io sto usando l'audio della televisione raga Io sto usando l'audio della televisione raga Nessuno vado via Allora sono invece quello che sta piccolando Voi state piccolando? No ma guardi tu sei da tutte le troppate da noi eh Lo so voi dovete venire in safe Vediamo un po' lei Sei sicuri raga che non state tipo sparando le cose? Sì stiamo sparando le cose Stiamo lontanissima te Allora sento voi che sparate Ma no dalle vostre cuffie lo sento Ho sai Ho sai Chi si è fottegano Adesso ando verso di voi così Se non siete più tranquilli come sono io Dove? 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 Fai cadere tutto ora Eh fai cadere tutto Chi sei? Chi sei frava? Vago Berlino Ma chi sei? Dove sono? E mi apri il muro fra quelli Ma qui Vai stop è scena Ray io faccio il giro da sinistra Sì ho continuato Quoi continuato Tu stai guardando Togliete quel punto rodo Un'è morto ma ce n'è un altro Che chi l'ha cichinato raga Ah non lo so uno no da persone Eh ok Tiamo attenti Uno sembra meglio andare in se Guarda quante robe ci avevano Dove? Eh quelli l'ha morto la Eh io lasso andando Come qui? Gento in fondo all'albero Quale? Ok Ah ma no sono in fondissimo Ma lei l'ha cifinato lui non ci credo per quanto non ho preso la testa di Ironman, vada lascia stare, lascia stare, andiamocene, via basta siamo assurati al volo, arrivo ah, quanti c'è la curelle 18,000 ma non è il vento, mi fa ah no, non ho pesato io bisogno di un pompa di centra, la sua pompa verde io la pompa verde la mitiretta bianca fai tu io c'ho la blu, la pistola è voluta tu però si perché è più rapida mi vedo scendere qua? si è in più si scende il bel giraio eh vado ragazzi, perché cosa non ho preso? perché si è diventato il giraio di disegno? da qua ok, andiamola a pusharlo? ecco, finisce dov'è kellen? è il vento di giallo? dentro, ma a destra, a destra con il sinistro hanno driftato ancora ma il compagno è arrivato da noi no, il compagno è dall'altra parte la finitura non andrò solo è sceso la si, è sceso dietro di me, c'è dietro qua dai fra, dopo ti, dopo ti faccio un insegnamento rapido che non devo andare da solo 7 kill prima io eh manco, manco, manco ho perso vita dai, quando è che ci paga i 60 punti io? devo ucciderne un altro io ora è un pompa, mi serve un pompa, docente ah, qui sono due raga eh, sono due si, togli il ping rosso che non vedo sono andati su, sono andati su sono andando solo sopra la montagna noi intercettiamo lì andiamo qua e come cazzo ci arrivo? no, no, andiamo in safe orco 2, andiamo in safe andiamo in safe va du, ragazzi, perchè cosa non l'ho preso bozza ma perchè non li chiappo con sto cazzo di pizzo? no, fra, dove cazzo sei? a terra 1 arriva l'altra andiamo, andiamo, andiamo là, andiamo là fra, arriva dietro di te, dietro di te oh, sono, sono, sono morti tutte e due, sono morti ma hanno, sono morti giù sono morti raga, raga, uccidete eh, lo so, lo so, lo so, sta andando ma hanno bounceato, mi sa, eh oh, uno è con me, con me una terra, una terra, un'altra terra si, te l'ho ucciso tutti? no, qua c'è uno oh, raga 80 manca uno, manca uno no, dalla mia destra, la mia destra, la mia destra qua, qua, qua oh, ragazzi, non voglio dire, ho potuto no, raga, ma fatti boh, vabbè che cazzo vuoi, vieni qua e figliati tutto, guarda qua cosa c'è no, no, non voglio niente venite qua da me, venite qua da me, c'è un po' potere c'è un po' le schizzo io sono pieno, fa, Lele c'è una mitraglietta buona, una mitraglietta buona no, Lele eh, vieni qua che ti curo, porca puttana dai, mi è in safe, dai, mi è in safe ah, è Andrea, quello scappo vieni qua, mica sei tu che scappavi da me safe non ho il medikit, ecco cosa non ho come faccio andare in safe da qua, io eh, in più sali come siete incastrati, raga ce l'abbiamo davanti, eh ce l'abbiamo qua sopra io non ho costruito nulla ho fatto solo una, una, un pavimento, raga non avete altre cure? sì, sì, ho due schizzi ancora sono sulla nostra destra, eh no, sotto di me sì, non pushare qui, mi devo curare è morto, è morto, è morto, è morto c'è un altro, hanno jumpato davanti a noi, raga forse dentro questo c'è spuglio no? siamo sulla destra perché sono qua sulla raga, cosa state facendo ancora in tempesta? oh, un attimo, mi credo che ho ucciso non è che qua? c'è la gente l'abbiamo uccisa e di qua, fra c'è gente, dov'è? la, la, la hai liberato uno oh, fatti credere tutto, ragazzi 110 oh, una a terra, una a terra e pushamoli fermo, no, fermo, fermo, fermo ho fatto credere tutto, ho fatto credere tutto eh, ma no, sta già andando, vado io, vado io, vado a pushar lo riali, ma ho 23, 23 sto andando a pushare, sto andando a pushare si, 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 vengo eh, andiamo, andiamo eh, no, doveva tenzione a spararli, raga spara, spara vai tra, vai tra, tanto, vai tra eh, vado tra, vado io, vado tra lo rianimo, però si, adesso l'ha reanimato, già ma niente, ormai, non è che bisogna 36 36 eliminato no, ne manca uno no, ne manca uno no, ne manca uno là dietro guarda me dai, su è morto? si ah, iaiai, andiamoci no non ho ancora subito un danno, eh quando lo subirò morirò no ciao, devo fermi io non ho ancora, non ho neanche cose ho uno di vita ho 99 di vita ho comunque 10 kg, eh? io 5 io 5 e lei le quanto ne hai? e lei le quanto ne hai? 2 eh no, allora 12 kg allora 12 kg vabbè, ma se, io ho fatto una cichinata, vaga che le cicciogamer devono spostarsi dopo faccio la cichinata ah, lei le non vuoi in pompa, c'ha? no, non mi tengo il mio andiamo qua, andiamo qua fermi, 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 che io non faccio pompa del volo è veloce, però poi vieni qua al viola ah, si resta le andate in parte dai, vieni al viola, perché c'è gente qua a Brugger ma faccio il modo, io voglio farmi un'altra viola allora, te lo faccio un po' io qua, guarda salite su da me ok, vai altri 30 punti, ok va 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 bene ho messo il ping va bene, va bene va bene 23 c'è uno sopra, eh 110 no, a questi qua li stanno andando di culo, fidatevi va, ragazzi no, no, non è che sono forti e che non si vedono in mezzo ai palazzi usciamo, dai no, 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 andiamo sulla destra andiamo sulla destra in safe andiamo sulla destra e poi andiamo in safe è morto, dai, spara là, dai, spara là c'è un altro sotto vabbè vabbè, dai, fa niente vai tranquillo, vieni qua sulla destra e vieni in safe tanto sono due team dai, anche là sopra, anche là sopra ce n'è uno sopra il tetto dai, andiamo cattivi perché sennò poi ti incurano sempre eh, quello che dico io pushiamo prima noi apposta di andare a nasconderci sempre non mi sto nascondendo ce l'ho qua davanti no, sto dicendo in generale ce l'ho qua davanti andiamo subito in tre boom là ce n'è uno là dentro eh, andiamo sono in due sono in due pushiamo? andiamo, vai andiamo sono scesi sono scesi a terra ti sparano, ti sparano oh, raga, il camiontino sono lì, eh ok, è morto c'è gente ancora? no, 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 no sì, sì, lo sto scansionando come un coglione eh, sì falline, pesci qua è più di tutto, eh via, 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 via via da lì, via da lì siamo in quattro siamo in quattro, raga noi contro uno, eh porco diaz, raga ve lo giuro su dio ve lo giuro su dio perché abbiamo giocato aggressivi, capito? eh, è quello che dico io via, 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 via via, via, via dove cazzo è questo? via, via, via la televisione, ragazzi è quello che è anche a me ora, sicuro raga, non ho più colpia dietro di noi, dietro di noi qua, lo ammazzo, eh vieni da me, toh, tiri, 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 toh è morto, è morto, è morto è nato nell'acqua non c'è bisogno, non c'è bisogno vabbè, la c'è dai, oh, pushiamolo no raga, qua da me stiamo, andiamo, andiamo, andiamo salmi 28 dai, pushiamo sto cazzo di coglione salmi, ragazzi non dobbiamo pensare che 36 oh, non mi costruite in testa, raga è morto, è morto ma quanti punti t'è? non lo so, 60 60, 60 oh, lei minchia, finalmente minchia, raga, eh sono in Lega Campioni sono in Lega Campioni facci i tornei no, 2427 ne mancano 30 sono in Lega Campioni ne mancano 30 punti 30 punti per fare i tornei però non piglio